Ciao a tutti! Benvenuti in questo nuovo video! Oggi scatteremo questa nuova LOL direttamente dal camping dei papà nella mia tenda apriamo Prima cernerina lo spaventate qua togliamo l'ho vista, l'ho vista, l'ho vista Gold Cherry Bomb vabbè io non sapevo che questa era fortunata lo sapevo aia mi sento male per queste cernierine per fare un suono così bello ragazzi vi giuro i Gold vi giuro sono emozionatissima io credevo in quella pallina proprio tantissimo pesava tantissimo pesava 201 prendiamo i sticker questi sono i sticker poi apriamo quest'altro cernierine non so se a voi si rompe questa mamma è sempre perché c'è la carta poi troveremo una bomba un io so già il tatuaggio una bomba è una bomba scusate per il rumore è una bomba tutta tigrata 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 ma fai tigrata si ok l'ho detto giusto quindi apriamo apriamo finchè non apro non so eh finchè non apro finchè non apro mettiamolo qua questo che mi sa picchi da tutte le tigre e prendiamo questo non so se ho trovato qualcosa di terrore adesso voleranno via le sportelline per tutto è appena volato di uno sportellino scusate è appena volato di uno sportellino non è coppia li apriamo tutti alla fine così ci lascia una sorpresa uno due tre quattro sacchettini non è coppia mia davvero non è coppia mia torniamo al nastrino facciamo un pop facciamo un pop qua miro qua via coriatolini cosmo li pescidiamo così tanto così questo mi sa con cappello aspetta che adesso dobbiamo recogliere tutto la lasciamo da parte c'è il biancino qui c'è la lol iniziamo a aprire questi sacchetti e li vediamo tutti, e li li faccio. Questo è un biberon. Questo mi sembrava che era un cappello. Sì, infatti è un cappello nero, bellissimo. Ma va bene, non ci credo ancora. Vuoto? Ciuccetto! Un ciuccio bianco! Mettiamolo qua, che non si perda. Mettiamo dentro il cappello, così non si perde. Ora! Due scarpette bianche e nere. Oh, pure col tacco, guardate, pure col tacco. Chic! E c'è questa! Benvenuta! Benvenuta! Panic Babe! Non so se si pronuncia così, però... Ciao! Ciao! Bellissima Pecnic Babe! Allora, ragazzi, io non ci credo... Non ci credo mai più! Questa è una delle più carine, secondo me. Ecco, adesso posso farvela vedere. È questa. Ma non vi sembra che i vestiti erano più neri? A me sembra così. Il cappello è nero. Non so se è successo solo a me. Vuoi vestirla o no? Sì. Beh. Ho avuto... Ho avuto altri pantaloncini. Guardate, questi sono rosa. E questi sono neri. Ho avuto altri pantaloncini? No... Vabbè. Cioè, non ci penso... Sì, lo sapevo che questa LOL... Poteva... Era un po' pesante. Anche troppo pesante. Ma... Non immaginavo proprio che... I vestiti erano così. Forse hanno cambiato i vestiti. Mi hanno fatto solo a me così, ragazzi. Perché tutto è successo a me? Eh... Ecco qua il caricolo della nostra picnic build. Wow! Che bello! I capelli tutti rosa! Guarda! Aspetta, scusate che è bene. E diventa? La diventa in tutti i capelli rosa. E... Verdina. Prova in quella calda. Wow! Guardate! Vi vengono tutte le cose bianche. E... Prova a denudarla. Ecco la nostra picnic babe spogliata. Facciamo la tua calda. Prima la testa. Guarda bene. Guarda bene. Wow! Il top! Aspetta, mettiamo via i ghiacciolini, se non ci vede. Guarda il top! Sì, vai giù. Il top è rosa e arancione. E anche la fascetta mi viene in testa. Come? Sì, questa qua. E l'ombretto. Sì, l'ombretto. E un, due, tre... Una. Tutto cambia! Vediamo cosa fa. Ho già vedo la cosa che è di famiglia. E la cosa che fanno le mie lols sempre. Questa è fredda, quella è calda e quando ha temperatura ambiente il flore è. Sì. Sì, lì, lì. Ti sei bagnata. Sì, ho appena fatto la doccia, ragazzi. Ve lo giuro. Ho già fatto una scutacchiata. Ho appena fatto la doccia. Ve lo giuro. Ciao! 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 Ciao!